Stiamo entrando nel vivo della campagna delle elezioni europee per rinnovare l'unico organismo dell'Unione Europea eletto direttamente ai cittadini. Un appuntamento importante in un momento particolarmente delicato dove l'Europa dovrà sempre più svolgere un ruolo importante. Per questo sabato pomeriggio alle ore 18 in Piazza Miani ci sarà un incontro con il segretario nazionale di azione Carlo Calenda che incontrerà i cittadini per entrare nel merito dei programmi, del ricco programma che come azione abbiamo proposto, che proponiamo perché noi vogliamo un'Europa seria che svolga un ruolo forte, incisivo, veramente dove noi possiamo essere protagonisti.